Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Mezza raffreddata e con un orecchio tappato, ma sono qui con la nuova reaction dedicata alla decima stagione di The Walking Dead. Oggi guarderemo il sesto episodio, ovvero Bounce in originale e Legami in italiano. Per fortuna anche stavolta i titoli combacciano, grazie a Dio. Perché ogni tanto le traduzioni italiane fanno cagare e lo sappiamo fin troppo bene, anche noi che amiamo i libri soprattutto. Questo stesso episodio come sapete che io lo guardo prima per analizzarlo per il video che poi vedete venerdì e adesso lo guarderò di nuovo insieme a voi in maniera un po' più scialla. Però l'unica cosa che posso anticiparvi è che è sicuramente il più interessante fino ad adesso dopo il 2, posso dirvi solamente questo. Non voglio anticiparvi niente, adesso ce lo vediamo insieme, sapete che purtroppo non ho i mezzi per farvelo vedere, ma avete l'audio in italiano. Vi ricordo comunque che la serie va in onda ogni lunedì alle 21 su Fox su Fox, per gli abbonati Sky, mentre invece gli altri si devono attaccare e trovare altre soluzioni. Quindi bando alle ciance, cominciamo, spero che queste, io sono contenta anche di rivedere che queste reaction insomma stanno avendo un buon seguito rispetto ai video che feci dell'ottava stagione ai tempi, quindi sono veramente molto contenta, ci tenevo a dirvelo. Ringrazio già in anticipo Carol di Carol Italia e tutta la pagina appunto, tutti i suoi utenti, perché mi fanno sempre molto piacere che guardano questi video. E niente ragazzi, accendiamoci a guardare l'episodio, bando alle ciance e cominciamo. Riuscite a dormire senza sognare Daryl e la nostra Carol? Si aprono le scommesse. Per me no, per me se lo sogna tutte le notti. Però c'è da dire, una cosa anche che parlavo ieri sera nella Rob, nella live di Rob, Don't Open the Inside, in questa stagione Carol ha un taglio, cioè le hanno sistemato quel taglio di capelli che veramente nella seconda metà della nora stagione sembrava Legolas dei poveri, cioè diciamoci la verità. Qui Daly in veranda col cane che fuma mentre fuori c'è un casino della madonna, questo se ne sta in veranda. Cioè io anche questo che non riesco più a concepire ragazzi, cioè chiaramente Alfa gli sta facendo un culo grosso come una casa e non guardate le mani, guardate le braccia e questi non stanno facendo niente. Cioè l'unica veramente che mi sembra che stia facendo qualcosa è Carol, cioè basta dirci cazzate, questi non stanno facendo niente. Cerchiamo Negan. Sì come no. Vuoi dirmi cosa cerchiamo davvero? Comunque è bello che Dary la conosca così bene. L'orda di Alfa. La troveremo e la elimineremo. Minchia, allora, vedate metto già in pausa, io qua un applauso voglio farlo perché questa donna ha appena esposto l'unica idea decente di tutta questa decima stagione. Troviamo l'orda e distruggiamola, quella che avrebbero dovuto provare a fare fin dal primo episodio. Porca di quell'era, sono passati sei episodi senza fare un cavolo e questa donna ha preso l'unica decisione giusta di queste sei puntate. Quindi grande, grande, mi sembra di nuovo la mia Carol, non voglio perdere le speranze, ma spero vivamente che la mia Carol stia tornando. Lo spero tanto perché mi manca, mi manca tanto la mia Carol, quella combattiva, quella forte, quella tosta, non dico quella autodistruttiva, quella con le visioni, ma la mia Carol, quella che è disposta a tutto pur di proteggere la sua gente. Mi manca tanto e spero tanto di rivederla in questi ultimi episodi prima del mid-season e che non sparisca soprattutto. Ma donna. Sono piccoli gruppi in cui ci sono dei sussurratori, ma si incontrano tutti esattamente in questa zona. È un cazzo di genio, cioè ma vi rendete conto di quello che ha fatto questa donna? Mentre gli altri se ne vanno in giro a farsi i cazzi loro, lei è stata lì a monitorare e a pensare a una strategia, ma grande, grande, Carol, ma grandissima, io ti amo. Perché prima non sei stata sincera? Eh beh, ogni volta che cerca di fare qualcosa la bloccate. Che carina. Tradotto, non te l'ho detto perché non volevo che mi cagavi il cazzo. Voleva proteggerlo. Perché effettivamente comunque Carol sa di avere un po' spinta all'esero di vendezza e ne è consapevole, non vuole coinvolgere l'unica persona importante che davvero le è rimasta, ovvero Daryl. Ormai si può dire effettivamente che Daryl è l'unica persona effettivamente importante della sua vita. Eccolo, cuore mio, Negan. Voglio unirmi a voi. Voglio partecipare, datemi un dannato. Io mi entusiasmo. Cioè ragazzi, stiamo rivedendo il Negan della settima stagione, ma con qualcosa in più, con qualcosa in più. È un po' spregiudicato, un po' rogantello come quello della settima stagione, ma con qualcosa in più, qualcosa di nuovo, ancora meglio. E volevano anche farlo fuori quando ha fatto la cosa giusta. Cioè, io so come va nel fumetto, ma comunque si può dire che l'azione di Negan di unirsi ai sussurratori c'è anche un po' giustificata, perché quei pezzi di merda volevano recidere di giustiziarlo perché ha ucciso una che ha picchiato una ragazzina innocente. Quindi, diciamoci la verità, è anche un po' giustificato. Io lo giustificherei. Perché andiamo, dai, ma di cosa stiamo parlando, quei decerebrati di Alexander? Ma perché sono decerebrati? Per colpa di Michon, ma poi ne parleremo. Cioè, ma cosa cazzo vuole questa mano affrezzolata nella maniera peggiore possibile? E anche lui è deficiente che le risponde. Ma quando mai? Cioè, sono rogina e sto cercando Eugene. E sti cazzi li avrei riattaccato. Ma perché? Con l'ebola, spero. No, ma non credo sia l'ebola, sarebbero già tutti morti. Questa scena è molto importante. Sono Carol e Daryl che fanno con le noccioline per colpire un barattoro. Mi mira di merda, Daryl, ma quando mai? Non l'ha buttato giù. Dovrai perdere per non saper perdere, dato che non valeva, ora è il mio turno. Guarda, è dubbio. Porta fortuna. Che ghiande legate insieme. Oh. No, che bella scena questa. Questa scena è bellissima. Come è andata, Ailton? È andata, è andata bene. No, è andata la merda. Il re la saluta. Eh, chi sti cazzi? Ah, beh. Sì. No. No. Io vedo le cose. Ma quando? Quando lì? No. Niente affatto. Madonna, no. Come si stanno guardando. Allora, io non sono una scippatrice, ma... Non restano molte persone da trovare qui fuori ormai. Tantomeno brave come lei. E allora amatevi. Fate felicere, Keryl. Che importanza? Ce l'hai come? Non devi stare sola. E non è da sola, ci sei tu! Gli anni passano, Daryl. Non puoi nasconderti con il tuo caro per sempre. Ma quello è vero, eh? Ecco, ha buttato giù il palattolo. Ci va per porta a casa. No, vabbè. Allora, questi due sono apparecchiati. Cioè, mi spiace, ma Daryl e Keryl sono apparecchiati l'uno per l'altra. Cioè, si fotta conni. Questo qui è stato anche una scena, adesso poi ne parleremo. Ma guarda, no, ma come si guardano? Cioè, io non sono una scippatrice, ma questa scena è veramente bella. Cioè, mi sta piacendo tantissimo. Allora, aspettate che metto un attimo in pausa perché voglio parlarne a caldo. Questa scena di dialogo tra Daryl e Keryl è stata stupenda. Chiaramente sono apparecchiati. Keryl Italia, tu farei stare facendo i salti di gioia, ma si vede. Perché a parte che io ci ho visto anche un po' di flirt, ma... Cioè, Keryl la Donny l'ha distrutta con un'unica frase. Non è così, assolutamente ha detto. Però vabbè, avete sentito che cosa ha detto esattamente. Ma, ragazzi, c'è, chiaramente questi due sono apparecchiati. Ma mi sta bene. Lo sapete, io non sono una scippatrice. Vi riconoscete benissimo. Per me possono restare così anche tutta la vita. Ma il discorso anche che fa Keryl è molto a doppio senso. Nel senso che non devi restare da solo. Però, sì, Connie è la brava persona, ma allo stesso tempo anch'io sogno... Sarebbe un po' una contraddizione che lo spinga verso un'altra donna quando sogna di essere... Di vivere una normalità insieme a lui. Sarebbe abbastanza contraddittorio. Sarebbe da bipolare adesso, perdonatemi un momentino. Se dovessero mettersi insieme e capire di amarsi e andarsi insieme, mi starebbe bene. Perché comunque sono anime affine. L'ho sempre detto, in qualunque modo possibile. Che non sia romantico, che sia solo di amicizia e tutto il resto. Sono comunque anime affine. Ma si vede poi, come si guarda? Sono apparecchiati. E va bene, mi sta bene. Perché Connie non mi è piaciuto come si è comportata nella quinta puntata. Perché mi è sembrato anche che cercasse di rabbonirlo. Si è approfittata della buona fede di Daryl per coprire quelle due mendecatte di Magna e Kelly. Questa cosa veramente non mi è stata bene. Quindi che Daryl abbia così negato la Donny, per me è motivo di gioia. Perché questi due sono apparecchiati. Carol e Kelly Italia, avete anche il mio appoggio. Sono apparecchiati perché si vede. Si vede. Lui la guardava come per dire, sono qua. Basta che tu me lo dica e io ti salto addosso. Adesso dopo non posso l'ironico. Poi ne parleremo meglio nell'altro video. Ma è così. È così. C'è poco da fare. Mi dispiace per tutti quelli che amano le Donny. Non facciamo partire una ship war perché chi fa partire la ship war nei commenti sarà bannato. Ve lo dico immediatamente. Non voglio polemiche, non voglio casini. Io non sono una shipatrice. Sto commentando quello che vedo. E quello che vedo io è che questi due sono apparecchiati. Connie è apparecchiata per Daryl. Ma Daryl è apparecchiato per Carol. E Carol è apparecchiata per Daryl. Questa è la verità. Liberati di lui. Perché? È un così bravo uomo. Mettilo alla prova. Sì, mettilo alla prova. Se lo riterrai degno. Madonna, comunque Samantha Morton. Ma quanto posso amarti? Mio Dio, ma sei troppo per il mondo. Non si deve. Cioè, Beth è già in modalità incazzosa. Mostrarlo. Cioè, quest'uomo potrebbe prendere la testa di Alfa e schiacciarla con le mani che è un metro e due metri e venti per 5,70 di spalle. Eppure guardalo. Guarda il potere che ha questa donna su quest'uomo. Guardatelo. Si è inchinato. Potrebbe schiacciare la testa con le mani. Teni i canna. No, vabbè. Madonna. Ma che donna. No, c'è. In senso negativo. Ma Alfa è un gran leader. Nel senso negativo. State insieme. Tu e il capo. Siate tipo amici con Bettafici. No, amici con Bettafici. Questo. Questo ha dritto. Negli annali della storia. Metta l'alfa. Metta l'alfa. Ti annienterò all'istante. Che puoi dire, Freddie Morgan non è basso, eh. Cioè, non dico che è alto quasi quanto Betta, ma... perché ti sei inginocchiato. Non che ci sia qualcosa di male. Insomma, hai indurito il cazzo di parecchi... Mi sta facendo morire. Quanto lo amo. Io però non l'ho mai fatto. Oh quanto ti amo Negan Ammiro il tuo autocontrollo E lo dico con il dovuto rispetto Ma tutta la storia della testa calva È qualcosa che Non mi fa calare i pantaloni Allora abbiamo considerato che a Negan Non piacciono le pelate Ok va bene Giusto Dighilo Carol Ma cazzo ma svegliati Minchia scusatemi Un applauso per questa frase Perché anche questa frase è bellissima A pauso Non posso fare la standing ovation Perché sennò carica casca tutto per terra Ecco così Ma standing ovation per questa frase di Carol Perché ha riassunto tutta la situazione In un'unica frase Abbiamo già pagato e stiamo ancora pagando Questa qui ha messo dieci dei loro sulle picche Tra cui suo figlio Li ha attaccati E loro manco se ne stanno rendendo conto Che gli sta facendo un culo così Ed è il che continua passivamente Ma perché? Perché segue le direttive Di quella decerebrata di Michonne Lui segue la sua linea guida Ed è sbagliato Perché la linea guida di Michonne Che oltretutto a farsi i cazzi suoi Con tutti i casini che stanno succedendo È una cosa sbagliata È una cosa sbagliata Oggi ne parlavo anche con Carol Oggi è martedì Voi stanno rendendo la mercoledì Quindi per voi è ieri Non c'è una figura di spicco Che dia coraggio a queste persone Ci credo che possa La briga sciolta Carol è l'unica che veramente Sta facendo qualcosa Sì è spinta dalla vendetta Tanto dalla vendetta E quello che il totale non è sbagliato Ma tanto anche se non state facendo niente Vi sta massacrando lo stesso Quindi almeno facciamo qualcosa Cristo santo Oh non se ne può più Oh mio Dio Basta Svegliamoci L'orecchio Che male che mi fa Non si guarda nella borsa Di una signora Daryl Non te l'ha insegnato nessuno Metti che ci sono gli assorbenti Beh immaginate Non ho portato la pistola Daryl Vuoi perquisirmi? Fa pure Ok Ma lei non vuole altro Perquisiscimi Dai toccami Fammi sentire un po' Del tuo Del tuo amore Con quelle tue belle mani virili No siamo sufficienti Non lo so Brava Minchia questa è la Carol Che mi piace D'accordo Ci sto Se mi si svegli anche Daryl Basta La serie decolla Un piano con il studio Allora Nigan un pezzettino così E beta E beta un perfetto rettangolo Di queste dimensioni Vabbè ma beta È la prima volta Dagli tempo Ecco magari se l'apro Sembra più grande No sentite la musica Ma è perfetta Io ho dato il coltellino svizzero Nato maiale Ma che cos'ha questa serie Contro i maiali Ma poverino Madonna Che Ma che cos'ha questa serie Contro i maiali Gli piace più il tacchino Il manzo E visto che non ce n'è più Se la prendono coi maiali Oh mio Dio No un buon piano dai Oh che bello Si è toccato dove ha messo Le due noccioline unite Che bella cosa dai Ah Un sussuratore Gli è dato un pezzo di maiale Ah che bravo È perché questi qua Comunque sono solidari L'uno con l'altro Oddio C'è Eugene C'è l'espressione Com'è che Che mi ha risposto E poi è una ragazza Oddio Finalmente si tromba Mamma mia Comunque quando sussurrano Il piano con quella Sono inquietanti Madonna No Trasura troppo Romero Queste scene Madonna Dary L'occhio eh Occhio Occhio Questa è brutta però eh Madonna La presa Zitta 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 Oddio Oddio Nicca gli ha aperto Bababia cosa fai Cosa fa Mamma mia che schifo Madonna che coraggio che ci vuole Ha aperto lo zombie Sta tirando fuori le putella No sulla faccia Non che poi perdi anche tu gli occhi Come padre Gabriel Madonna santa Se sono brutti però ragazzi Per lo meno Meno male Sì ma c'è lo zombie che Daryl tiene per il collo Che fa così Mi dai il colpo di grazia Già che mi hai aperto lo stomaco Se ne è andato Sussurratore se ne è andato Se ne è andato Ma io mi domando Daryl si è scopasto la faccia con le budella di morto Non è che si ammala anche lui adesso Sperende no ragazzi Questo deve essere stato costretto a fare qualcosa di brutto Perché non sta bene Chiaramente Certo è da sei episodi che ce la menano Ditemelo a questo punto Perché non ce la faccio più Eh ti apri gli occhi Dov'è finito? È sul mulino Con la bambina Ma che cazzo Cosa ha usato? È teletrasporto come Goku? No è quello che gli ha dato il pezzo di maiale Ma perché? Oddio Ma 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 che cazzo Ma sto uomo è sfigato con i coltelli Oddio No L'ha circondato Ha ammazzato il sussurratore Che gli ha dato il pezzo di maiale Ma veda ma che problemi hai? Oddio Carol ha catturato uno dei sussurratori Minchia Che cosa bella Questo sporco di sangue Sembra Rambo Del primo film Un po' più figo però Che diavolo succede Mi ha vista Portiamolo a casa Vediamo cosa sa Può servirci Sì 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 Secondo me sì invece Cos'è questa? Le manette di plastica Non c'era nella tua borsa Ti sarà sfuggita Perché non le aveva nella borsa Perché sapeva che ci avrebbe guardato E quindi deve essere nascoste Da qualche altra parte Carol non è stupida no? Che cosa bella Che gli hanno catturato uno Finalmente si fa qualcosa Io No ma tanto lo so che Beta però Che problemi hai? Tutte le volte ammazzano uno dei loro Per far qualcosa Lui era debole Alfa sempre Sempre in età Si sembra strafatta Ci sarà più utile Come uno dei morti Sono pronto per Uuuh Ahahah Deci a me Stralungo Viste le mie giganti Palla Bellissimo Dio che bella scena Non ci siamo presentati Ufficialmente Ma so bene chi sei Minchia Si è inchinato Davanti a lei Uuuuh Tutto quello che vuoi Tutto quello che ho E tu No questa scena è bellissima Beta in modalità Incazzosa Alfa è già apparecchiata Ve lo dico subito Guarda No Samantha Morton E Jeffrey Dean Morgan Sono fantastici Sbucano lo schermo Guarda come No Non mettiti la lingua in bocca È troppo presto È troppo presto Male ma io non volevo Oddio Eh l'hanno portato Uuuuh Oddio Oddio Alfa Carol e Lydia Oddio Aaron e Gamma L'altra volta Che anche su di lui Non ho da dire poi Oddio Porca miseria Porca miseria No vabbè ragazzi Si preannuncia un altro Settimo episodio Poi Vabbè Basta che cercate The Walking Dead 10x7 Promo E lo trovate Allora Considerazioni finali Ecco così Scusate Considerazioni finali Un grande episodio Finalmente un episodio Interessante Che mi ha intrattenuto Che mi ha emozionato Le parti con Negan Sono quelle che mi hanno Veramente più entusiasmato Bellissime Le cere Carol Voi lo sapete L'ho già detto Non sono una scippatrice Ma questi due Sono apparecchiati Si vede lontano Mio Irene Se mi stai guardando Lo so che tu Non lo scippi con lei Tu non lo scippi con nessuna Ti chiedo scusa Ma a mio parere È evidente Sono apparecchiati Hanno avuto Di dialoghi stupendi Carol Ha detto un sacco Di cose giuste Sebbene magari Le sue intenzioni Io so già Che verrà criticata Eh Ma adesso Mette a rischio Le comunità E tutto Adesso Ma ci rendiamo conto Che qua c'è una maniera di gente Che sta male Probabilmente per l'acqua Contaminata da Alfa Cioè ma almeno Sta donna fa qualcosa Io ho già visto Uno sneak peek Del prossimo episodio Quando Carol e Daryl Portano Il sussurratore In In gabbia E Lydia lo riconosce Poi oltretutto E padre Gabriel Subito comincia Ma cosa hai fatto Ma hai messo in pericolo E brava E hai tirato una testata A padre Gabriel Perché davvero Non se ne può più Di questo atteggiamento passivo Basta Vi sta facendo il culo a strisce State anche morendo Probabilmente Per colpa sua E continuate a non fare niente Perché Perché non c'è una figura Di spicco Che gli ha infuso coraggio Gli hanno infuso solo paura E chi è stata Michonne E quegli altri De celebrati Del consiglio A chiedere il purtroppo E vittima Della mentalità Di questi Quattro mentecatti E io spero ovviamente Già mi si stava un po' Svegliando Ma Spero ovviamente Che nel prossimo episodio Del film Prima del Miss Season Mi si svegli Perché non lo reggo più Così passivo La parte di Eugene Le mie impressioni Nel video di analisi Questa reaction si conclude qui Spero che vi abbia divertito Che vi sia piaciuta Io ve l'ho detto Se ho ottenuto Un tono di voce Troppo alto Col microfono Vi chiedo già scusa Ma non sto veramente Capendo niente Perché questo orecchio È come se non lo avessi Quindi regolare Il tono della voce È abbastanza problematico Per me oggi Spero la prossima Di stare meglio Vi ricordo come sempre Che in descrizione Troverete il link Della pagina Facebook Di Carol Italia Vi saluto tanto Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao Carol Ciao a tutti quanti Vi invito anche A andare a vedere Le live E le reaction E le analisi Di Rob of Dead Inside Vi linko il link Sempre in descrizione Dove troverete anche Tutti i miei social In descrizione Facebook Twitter E soprattutto Instagram Dove sono più attiva Vi dite a trovarmi Seguitemi Mettetemi like Che mi fate Tanto 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 contenta Iscrivetevi al canale Al blog Se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella Per attivare le notifiche E se questo video vi è piaciuto Mettetemi un bel like E condividetelo Vi mando un bacione enorme E ci vediamo Al prossimo video Al prossimo reaction Alla prossima recensione Ciao a tutti Ma finalmente Si fa qualcosa E andiamo Campioni del mondo Sii Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti